Un minuto di silenzio per le vittime della guerra in Ucraina, lo ha osservato il Consiglio regionale in apertura della seduta di martedì. Variazione di bilancio, polemica sull'IRPEF, opposizioni all'attacco sull'adeguamento dell'addizionale regionale alle norme statali. Altri 3 milioni e 600 mila euro per il Ponte sul Serchio. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Monitor Consiglio. La seduta di martedì scorso del Consiglio regionale è stata aperta da un minuto di silenzio per i 117 bambini morti dall'inizio del conflitto in Ucraina e per tutte le vittime della guerra in corso. L'iniziativa è stata decisa dal Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. È un modo con cui abbiamo voluto ricordare anche tutte le vittime della guerra. Oggi è stata una giornata particolare con le Camere riunite, il Presidente dell'Ucraina Zelensky che ha raccontato la resistenza del popolo ucraino. Questa è una battaglia per la libertà, la democrazia dei valori della nostra Europa. È evidente che le parole arrivate oggi dal Presidente Zelensky sono molto forti. Ha paragonato Mariupol a Genova, 400 mila abitanti, l'80% della città distrutta e oggi gli ultimi attacchi terribili anche nell'unico luogo di cultura rimasto intatto dove andavano a trovare la salvezza donne e bambini. Il minuto di silenzio è un messaggio forte che noi vogliamo mandare e chiediamo che presto possa finire questa guerra e che si ritrovi la pace. Noi come Toscana stiamo facendo tutto quello che possiamo fare per accogliere i profughi ucraini. Guardate, ogni mattina per venire al lavoro passo sotto la questura di Pisa e vedo tante donne, tanti bimbi, lo sguardo spento. Ecco, io mi auguro che noi non solo possiamo accoglierli, possiamo includere ciascuno di loro e farli sentire a casa propria, sperando che quel sorriso spezzato da questa atroce guerra possa tornare a splendere più forte di prima. Voltiamo pagina. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la prima variazione al bilancio di previsione 2022-2024 con 23 voti favorevoli e 11 voti contrari. Tra le varie misure adottate l'adeguamento alle disposizioni statali in materia di addizionale regionale IRPEF con una nuova articolazione degli scaglioni che passano da 5 a 4. La manovra comporta un incremento del gettito tributario stimato in 450 mila euro ed è uno dei punti più criticati dalle opposizioni. Tra i finanziamenti è stato approvato quello aggiuntivo di 3 milioni e 600 mila euro per il nuovo ponte sul Serchio a Lucca. Sentiamo le interviste ad iniziare dal Presidente della Commissione Bilancio, Giacomo Bugliani. Il Consiglio regionale ha approvato una manovra che comporta una variazione al bilancio di previsione che per il 2022 supera 900 mila euro, è di 450 mila euro sul 2023 e di oltre 4 milioni di euro per il 2024. Sul fronte delle entrate si registra un aggiustamento delle aliquote e degli scaglioni dell'addizionale regionale all'IRPEF, all'imposta sulle persone fisiche, in adeguamento alle indicazioni che vengono dalla legge di stabilità del Governo. Questo comporterà un maggior introito di circa 450 mila euro all'anno che andrà però a colpire i ceti medio-alti della popolazione. Per quanto riguarda le voci di spesa, i cambiamenti più importanti che vengono fatti con questa variazione riguardano i territori di alcune province. In particolar modo viene rimodulato un contributo di quasi 430 mila euro per il Comune di Palazzuolo sul Segno per la realizzazione di una struttura destinata ad ospitare i servizi sanitari. 250 mila euro sono destinate al Comune di Buti e c'è uno stanziamento aggiuntivo di oltre 3 milioni e mezzo di euro che viene destinata alla realizzazione del ponte sul fiume Serchio e che va ad unirsi ad uno stanziamento della provincia di Lucca, del Governo e della Regione che già ammontava quasi 20 milioni di euro. Si tratta della prima variazione al bilancio regionale a cui ne seguiranno presto delle altre, destinate ad offrire risposte concrete al territorio toscano e a molte delle esigenze che la comunità con la fase di superamento della pandemia attende? Sicuramente purtroppo è un giudizio ancora una volta negativo, non ci ha stupito in positivo neppure stavolta la Giunta. Si tratta purtroppo ancora una volta di una serie di provvedimenti e di misure che vanno a interessare settorialmente alcuni territori, quindi sono interventi isolati, anche in questo caso privi di una sostanziale organicità. Stavolta però ci sono due misure sulle quali ci siamo soffermati anche in Commissione. La prima, che l'aumento della pressione fiscale è innegabile, benché ci venga passato il concetto di un allineamento a livello nazionale dei provvedimenti di riduzione delle aliquote, in realtà questa sarà una misura che impatterà e impatterà soprattutto su quei ceti medi che purtroppo in questo Paese scontano evidentemente il fatto di essere coloro che in qualche misura sostengono il PIN nazionale. Ancora una volta si fa una scelta ben precisa. Oggi il cittadino toscano che magari ha una partita IVA, che magari fino appunto a qualche mese fa aveva una trattenuta IRPEF del 41% guadagnando 50.000 euro, ad oggi non solo avrà ancora il carico fiscale appunto che magari è regato a una partita IVA, ma avrà una trattenuta del 43% e un'addizionale regionale più alta. Questo è il quadro. Su una misura che comporterà per la regione toscana un aumento di circa 450.000 euro. Su questo avevamo cercato di neutralizzare proprio in virtù della contingenza economica che ci troviamo a vivere l'impatto immediato sulle tasche dei cittadini di questo emendamento. Questo non è stato possibile paradossalmente perché avremmo intaccato un fondo che va a preservare le perdite delle società partecipate. Tutto questo sarebbe quasi comico se non avessimo oggi in bilancio un'altra misura che è quella che sostanzialmente consente il compenso nelle società partecipate di cumulare le indennità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministrazione Delegato laddove è previsto. Allora capite bene che questo è quasi un paradosso. Dall'altro non si trova un muro contro muro quando si vuole evitare un aumento della pressione fiscale dall'altro si va a premiare quelli che in qualche maniera sono protetti paradossalmente da quei fondi che coprono le perdite delle società. Società che ricordiamo in grande molto spesso sono anche state censurate proprio nella loro gestione da parte della Corte dei Conti attraverso dei rilievi puntuali. Quindi a noi francamente tutto questo ripeto pare quasi grottesco se non fossimo davanti al bilancio della regione toscana. Concludo dicendo siamo ancora in attesa del piano regionale di sviluppo in una situazione economica e sociale che rischia davvero di degenerare oggi ancora non sappiamo la regione quali interventi strutturali intende adottare. Al contrario ci vengono come dire propinate questo tipo di misure che francamente ci lasciano quanto opposizione assolutamente basiti e fortemente contrari. Un voto positivo, si conferma la volontà di Italia Viva di questo anno di non aumentare le tasse, una battaglia politica che abbiamo condotto e anche in questa prima variazione la riconferma praticamente anche dell'addizionale IRPEF, degli scaglioni, così come delle tariffe per noi è un elemento importante. Non era il momento di aumentare le tasse, siamo stati in grado di adeguare le nostre previsioni fiscali, le previsioni di riduzione fiscale che sta avvenendo a livello nazionale. Questo è positivo nelle settimane che sono molto dure per tutti i cittadini toscani come per tutta Italia, dove il carbo bolletto diventa insostenibile, la riduzione fiscale che sta avvenendo a livello nazionale, l'assegno unico per la famiglia e la piccola forma di riduzione che proviamo a fare a livello regionale può cercare di alleviare quello che è un aggravio che altrimenti rischia di essere insostenibile per le famiglie toscane. Io vorrei intanto rincuorrare tutti, per cui c'è un aumento del prelievo fiscale, perché abbiamo assistito e stiamo assistendo a un dibattito surreale, forse anche perché siamo il giorno successivo alla primavera, ma di fatto c'è un aumento della tassazione in questa regione, molto probabilmente non sarà che il primo. Chiaramente si fa un dibattito su chi si va a toccare, su quali redditi si vanno a toccare, si presuppone che i redditi sopra 50.000 euro non siano gravati da altri prelevi fiscali, ma in realtà quello che si va a comporre con questa variazione di bilancio è tutta una serie di interventi che hanno una loro razio e che Fratelli d'Italia ha affrontato costruttivamente, in alcuni casi votando a favore, in alcuni casi astenendosi, in alcuni casi chiaramente dando nel complesso un voto contrario a quella che è una manovra che non ci convince per due ordini di motivi, la prima perché non va assolutamente a toccare tutto il malcontento che viene vissuto dalla comunità toscana, sia a livello imprenditoriale che delle famiglie, e poi chiaramente perché nel suo complesso non fa che essere una variazione che non ha nessun tipo di strutturazione e organicità e ci fa credere che durante il corso dell'anno ricorreremo probabilmente ad altri prelievi che ci aspettiamo di poter chiaramente poi controllare e dibattere in aula. Per quanto riguarda Lucca voteremo a favore, il gruppo di Fratelli d'Italia voterà a favore, per quanto riguarda un incremento ulteriore della spesa del ponte sul Serchio, sono 3,4 milioni di euro in più, beh che dire, è giustificato dall'aumento delle materie prime, c'è una gara che si è bloccata però i lucchessi devono consolarsi. Dal 2014 che aspettiamo un ponte, figuriamoci se ne aspettavamo due, aspettiamo un ponte che non si materializza ancora, che cresce nei costi anno dopo anno, che adesso costa ulteriormente di più per il rincaro delle materie prime, speriamo veramente, diciamo, ormai diventato un refrain di Fratelli d'Italia a Lucca, che sia la volta buona per Lucca e per i lucchesi. Sonora bocciatura rispetto a una prima variazione che non condividiamo nella filosofia, nell'impostazione e nel contenuto. Siamo molto perplessi sia perché per la prima volta viene rotto il tabù dell'invarianza della pressione fiscale, perché di poco, ma qualcosa aumenta. E noi siamo preoccupati in prospettiva, perché? Perché di fatto non abbiamo ancora rassicurazioni per quanto riguarda il debito in materia di sanità delle aziende sanitarie, vorremmo avere, ecco, rassicurazioni a riguardo al più presto, anche perché, ecco, l'adeguamento alle aliquote, le nuove aliquote IRPEF avrebbe potuto avvenire in forma diversa, senza portare a un lieve, ma pur effettivo, aumento della pressione fiscale. Altre regioni hanno perseguito questa strada. In più, certamente non rientra tra le priorità dei toscani quello di compensi dei manager delle partecipate della Toscana. Anche per oggi non si vola. Il Pegaso non riprende a volare e tutto questo per colpa della maggioranza di centro-sinistra. E poi ve lo voglio dire proprio chiaramente. Quando si presentano provvedimenti in materia di natura finanziaria, ecco, quei provvedimenti dovrebbero essere con solo norme di natura finanziaria. Invece, constatiamo che molte disposizioni non hanno natura finanziaria, ma di carattere manutentivo. Cioè, servono a far sì che possa essere ristabilito l'ordinamento delle situazioni che devono essere cambiate. Questo non ci convince come modo di fare. Lo riteniamo poco rispettoso anche nei confronti dei toscani. Quindi, ecco, nella forma, nella sostanza, anche nella pochezza, proprio questa prima variazione non ci convince affatto. Questa variazione di bilancio è incomprensibile. Innanzitutto, siamo a marzo e la regione fa una variazione di bilancio su interventi spot, completamente slegati da una programmazione organica, e coglie l'occasione essenzialmente di aumentare gli stipendi ai presidenti del consiglio di amministrazione che possono cumulare il reddito come amministratore delegato. Visto il periodo di grande incertezza e crisi economica, riteniamo questa decisione veramente fuori luogo. è anche un messaggio veramente sgradevole verso i cittadini che tutti i giorni sono a combattere con le difficoltà economiche, della mancanza di lavoro e tutto quello che sappiamo benissimo legato sia all'aumento dei costi e dell'energia che delle materie prime e anche delle derrate alimentari. Cambiamo ancora argomento. Nell'auditorium di Palazzo del Pegaso si è svolta la cerimonia di premiazione della terza edizione del premio Chianti Tesi, che mira ad analizzare e sostenere l'economia vitivinicola del Chianti. Gli studenti premiati sono Luca Bacciarelli dell'Università di Pisa, che ha presentato una tesi su vantaggi e svantaggi della gestione familiare delle piccole e medie imprese, e Valentina Savelli per il suo lavoro riguardante i fattori che determinano il prezzo del Chianti classico. Sentiamo le interviste. Tutti gli anni, da ormai tre anni, riceviamo molte candidature da Università in tutta Italia, studenti italiani con tesi in Economia e Management. Quest'anno abbiamo il piacere di premiare due tesi di studenti toscani. Il primo è Luca Bacciarelli dell'Università di Siena, con una tesi su impresa familiare e leverage finanziario. La seconda è Valentina Savelli, che si è laureata all'Università di Siena, e ha presentato una tesi su il prezzo del vino e le determinanti del prezzo del vino, in particolare focalizzandosi sul Chianti classico. Sono due ragazzi che hanno sviluppato delle competenze di valore, secondo noi, e rappresentano proprio quello che è il futuro del territorio, dato dal capitale umano, delle persone che vivono su questo territorio e che crescono su questo territorio e che beneficiano anche delle nostre istituzioni formative, come l'Università di Siena e l'Università di Pisa, in questo caso. E quindi siamo, come dicevo, molto contenti. Al primo classificato Luca andranno 2.500 euro, un premio di 2.500 euro messo a disposizione da Chianti Banca, e alla seconda classificata Valentina andrà un premio di 1.000 euro per il suo lavoro, che è stato giudicato meritevole, come quello di Luca, da una commissione composta da sei docenti universitarie. Le tesi sono state premiate perché i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro, che ha rispecchiato che gli erano i temi proposti nell'edizione del Chianti Economic Forum. Quindi onore al merito e la premiazione è uno stimolo per i giovani, secondo quello che è l'obiettivo del concorso che da anni ormai si ripete con soddisfazione e partecipazione da parte dei giovani delle università del territorio. Giornate come queste danno il senso di quello che facciamo sul territorio. Sono giovani studiosi che hanno costituito un'associazione di rilievo per il nostro territorio, per il territorio del Chianti e attraverso questa associazione premiano e contribuiscono all'impegno e alla ricerca di altri giovani studiosi e studiosi. Questo è molto bello perché conoscere l'economia locale, loro hanno anche ormai rapporti con il nostro istituto regionale di programmazione economica, significa avere gli strumenti per poter agire su quel territorio. Grazie al loro impegno da anni noi abbiamo uno strumento in più e va a grande merito di che ha avuto la forza e il coraggio e noi come istituzioni cerchiamo di accompagnare questo percorso grazie anche alla sensibilità e alla generosità di alcuni sponsor. Oggi si parla di futuro, si parla di futuro del nostro territorio, si parla di giovani che attraverso le loro idee, il loro lavoro di ricerca contribuiscono a costruire un territorio migliore. La sfida che noi abbiamo lanciato con Toscana 2050 è quella di provare a disegnare come cambia la nostra regione. Abbiamo bisogno delle migliori energie, abbiamo bisogno che questo diventi un percorso da condividere con quante più persone possibili perché il disegno del domani del nostro territorio, della Toscana e dei nostri figli, ha bisogno di tutte le energie e dello sforzo collettivo di tutti. È tutto per questo appuntamento con Monito il Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona sera. Grazie a tutti. Grazie a tutti.